Dove mi porti quest'estate? Dove mi porti? Allora, se vuoi andare a Rimini Così? Da Rimini? A Rimini? Mi piace, a Rimini, a Rimini Allora Rimini, ti dico subito, Rimini Allora Rimini ci vogliono 6 ore di macchina Ma perché andiamo con la macchina? A comunire, a perdere Ok, 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 6 ore di macchina 6 ore di macchina, 6 ore di macchina 6 ore di macchina, no, ti sei, sto trovando Sto vedendo la spesa, allora solo per l'andata Solo per l'andata Tra spesa e pedaggi sono 135 euro Tra spesa e pedaggi, andata A stessa cosa il ritorno, ovviamente 135 Sono 270 euro Se volessimo risparmiare? Eh no, non potremmo risparmiare Cioè per risparmiare per andare a Rimini E per andare a Rimini Perché io volevo prendere un albergo un poco più E quindi vorrei risparmiare sull'andata E sul ritorno pure Allora, con la macchina ci vogliono 6 ore E spendi 270 euro andata e ritorno Cioè 6 ore all'andata, 12 ore Se vai invece a... Ah, ecco Hai trovato modo di risparmiare? E vai, ma che cos'è? No, 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 qua non spendi una ritorno Niente No, no, sta stessa su Google Veramente E come devo fare? Appena Appena Appena, 10 giorni ad andare 10 a tornare a piedi Sì, 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 calma 20 giorni Grazie, partiamo 20 Parti 10 giorni prima Eh? E ti hai un tossiferi? Come no? Ce l'hai? Eh, ma uno quando deve risparmiare Deve risparmiare Allora, Rimini a piedi Ecco qua Ah, 7 giorni 7 giorni 7 giorni Abbiamo detto 10 Perché stiamo conoscendo a te È il cammino di Santiago proprio No, 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 no Non è il Santiago È mai venuto Andiamo noi Ah, voglio venire Purufichi Stefano Eh, non lo so C'è il cammino di Santiago Quello che si fa Ah, Santiago è di Compostela Tu lo conosci Ma io mi rimini Capito Ma è il cammino di Santiago È di Compostela Ma chi ha a Compostela? No, è un cammino sacro Ah, dove convongono le tele? No, cammino sacro Si fa questo cammino Si arriva poi a Santiago E si prega Perché convongono le tele Compostela Ma no, ma scusa Ma tu sei fare La cultura Ma sai dove sta? Sai almeno dove sta? A Santiago Dove sta Santiago? Non lo so A Spagna A Spagna A Spagna È troppo lontano In Spagna Ah, no, certo In Spagna In Spagna In Spagna Pasqua Pasqua dove andiamo allora quindi In vacanza? Allora, se vogliamo andare a piedi Possiamo andare qua A Torrione A Torrione A Torrione Risparmi sull'albergo Sì Risparmi sulla benzina È certo Risparmi sui pedaggi È certo Stavo la Spagna Libre Io ce ne fuggi Tu dici Eh, scusa Secondo me conviene Quindi alla fine Invece di andare a Facciamo il cammino Di Torrione Tela Torrione Tela Vabbè Ti piace? Non molto Ma sei l'unico modo No, no, no No, no E che modo c'è? Che modo c'è per risparmiare? C'è un altro modo per risparmiare? No, no No No, quindi rimaniamo così No E Pasquale che ma fa? No, no No, no Non andiamo in vacanza Vogliamo andare Carmela in vacanza? Andiamo in vacanza A proposito della vacanza Eh, che succede? Tu mi parli sempre della prova costume Della prova costume Della prova costume Eh Vuoi superare la prova costume? Sì Non te lo metti Cioè a manaparte Dove ci metto un cappotto Un pantalona Maglia E ce ne andiamo in montagna quest'anno Ma tu sei un genio Pasquale Che dici Carmela in montagna? Ma tu sei un genio No, no, sono Pasquale Ma dico andiamo in campagna E in montagna In montagna Andiamo in montagna Dove vogliamo andare in montagna? No, però in montagna Andiamo in Trentino Eh Là Sono almeno a due mesi A perdi No, no Non mi sembra un po' troppo Se vogliamo andare Invece A casa di mio zio Casa di mio zio Eh Che sarebbe su quella collinetta là Eh Quella collinetta Stiamo un paio d'ore a piedi Ma quella collinetta Giovi 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 Piegolelle Giovi Piegolelle Un paio di lavoro Un paio d'oretti Un paio d'oretti e mezza A piedi Stiamo là Ci facciamo lavare l'estate E poi ce ne scendiamo piano piano E superi la propria costume Alla grandissima Carmela Ma si mette un cappotto in ire Ma Sono d'accordo Quest'anno Veramente sono d'accordo Montagna? A montagna Collinetta Collinetta? Andiamo? Andiamo Ti avvii? Ma avvii A piedi? Vai Pasqua Fai l'uscita che ti piace La classica?